Miss mondo, o Miss Europa, le tue aspirazioni? Di fare la modella. Di fare la modella? Sì. Aspirazioni artistiche non ne ha? No. E tu hai studiato qualche, hai fatto qualche scuola, qualcosa, oppure sei arrivata a Miss Italia così pure candida senza... Così pure candida, con la terza media. Guarda che questa è una bella cosa, anzi ti vuole dire una faccenda, quando i miei figli avessero di studiare le ho regalate la macchina, perché nella vita non è lo studio che fa, ecco per te serve la bellezza e devi andare avanti con la bellezza. Da quanto sei qui? Da cinque giorni. E il paesino di Fiumato ti è piaciuto? Moltissimo. Moltissimo. Sì. E l'impatto con la popolazione? Non ho ancora avuto molto impatto. Stai avendo adesso l'impatto con la popolazione. Ti sembra buono? Ti sembra buono. Questa è dire, rimarrai qui a Fiumato per qualche giorno ancora? Domani. Ci sono anche gli esibizionisti al concorso nazionale di Miss Italia. Dimmi. Volevo salutare tutti gli amici di Piuvalvo e volevo dirgli che ci rivedremo molto presto.